Ben tornati al nostro appuntamento ormai settimanale di questa seconda roadmap dei nostri Trading Customs Talks, sono qui con la collega Rona Marrocco come sempre per affrontare oggi un tema che in realtà arriva non tra i primi però rappresenta, lo vedremo, il punto di partenza di ogni valutazione in termini sia di compliance ma soprattutto di pianificazione del rapporto canale Europa in tutto il mercato, come vedremo che è coperto questo tipo di linguaggio si tratta di identificare quale sia il carattere di una certa tipologia di merce per ricondurlo ad una codificazione che è universalmente condivisa e che serve non soltanto per stabilire se stiamo trasportando una birra una t-shirt, un motore termico piuttosto che un riduttore ma serve per costruire su quella identificazione univoca che è opponibile ai terzi verso tutte, e lo vedremo praticamente tutte le autorità doganali che appartengono al consenso della World Customs Organization ma serve per affrontare direttrici diverse tra queste, alcune le abbiamo già approfondite insieme, quelle legate alla origine delle merci e legate alla si tratta di un ambito che riguarda che vedremo in questa macchinata talvolta non digerita dalle aziende nel senso non apprezzata in termini di interesse primario è spesso lasciata a soggetti tessi molto spesso affidata ai fornitori i quali spediscono un semilavorato una materia prima, una componente attribuiscono a quel prodotto che il nostro operatore cede un codice di classificazione che non viene mai più messo in discussione viene preso per buono senza però considerare che in realtà quel carattere, quel codice di classificazione potrà generare un effetto domino sull'impatto e la movimentazione di merce che la società potrà sforzare avrà nei mercati internazionali Massimo, mi senti? perdonami, hai un po' di problemi di audio trova a togliere il video sì, ecco, mi senti adesso? meglio, molto meglio perfetto, benissimo dicevo dunque che la gestione di un codice di classificazione non accurato può generare un effetto domino che si riflette su una serie di diverse aree raccontavo un attimo fa l'origine perché ovviamente laddove si utilizzi o si parta da un presupposto di classificazione sbagliato tutte le regole di origine che si andranno ad applicare sul prodotto finito ottenuto e non inquadri l'esatto codice delle componenti possono generare un errore un errore che addirittura avrà un rinflesso di natura penale se ci si convince di aver rispettato una regola preferenziale partendo da un codice sbagliato e invece in realtà non la si è rispettata senza contare ovviamente sempre in chiave di effetto domino generato da un errore di classificazione che banalmente in importazione ad esempio sbagliare un codice di classificazione vuol dire vuol dire rappresentare in modo falso l'evidenza oggettiva del prodotto e ad esempio accertare un dazio più contenuto di quello che avrebbe dovuto essere pagato se il codice di classificazione fosse stato quello corretto e inoltre c'è un'altra direttrice che abbiamo già affrontato in modo verticale che è quella dell'export control non riconoscere un codice di classificazione di un prodotto che riconduce ad una sensibilità duale ad esempio fa sì che una società esporti un prodotto in difetto dell'avere ottenuto quelle autorizzazioni necessarie con ciò commettendo ancora una volta un reato perché esporta un prodotto che avrebbe meritato un'attenzione duale senza aver ottenuto l'autorizzazione di riferimento tra l'altro su questo voglio segnalare una circostanza poi lo vedremo più avanti parlando degli esempi delle regole di classificazione una circostanza che credo sia veramente inquietante abbiamo rilevato alcuni casi nei quali aziende che oggettivamente movimentavano prodotti erano classificati e classificabili come a respiro duale diciamo così nel trasferire gli arrempimenti ad una terza parte per l'effettuazione dell'esportazione vedevano che le ricrazioni di esportazione tornavano con un codice mutato diciamo l'interesse non era elevatissimo perché in esportazione non ci si preoccupava di verificare quale fosse la bontà del codice di classificazione in realtà ci si è accorti che il codice veniva modificato in sede di dichiarazione doganale per evitare di entrare nella complessità duale e quindi con ciò ancora una volta commettendo innanzitutto un reato di falso perché il codice che avrebbe dovuto essere uno veniva in realtà proposto per due con ciò togliendosi dalle esigenze di tracciabilità duale però in questo modo formando sapete si tratta di un contraddittorio formando una dichiarazione che era certamente falsa ora come in tutti gli altri in tutti gli altri approfondimenti facciamo un'analisi verticale sul tema cominciando a vedere quale sia la classificazione doganale ma soprattutto vedremo molti esempi parlando delle regole ricordando che e ci torneremo più o più volte durante questo nostro incontro di questa mattina la classificazione doganale non deve essere affidata ai terzi se ai terzi viene affidata il terzo che è diciamo incaricato di riconoscere quale sia il nome doganale di un prodotto deve disporre di tutte le informazioni ma certamente non si deve in alcun modo affidarsi ad un codice di classificazione subito dal fornitore magari un fornitore non unionale il quale avrà avuto interessi e prospettive diverse a rappresentare un codice che in realtà non è la esatta espressione delle proprietà caratteristiche di un prodotto detto questo andiamo avanti sulla classificazione doganale e lascio la parola alla collega che vi introdurrà su quali siano i criteri e la razio della classificazione doganale grazie Massimo come ci raccontavi al passaggio di ogni confine sorge per prima cosa la necessità di qualificare la natura della merce oggetto di scambio questo per poter identificare tutte le formalità connesse all'importazione ora ciò non avviene in effetti nell'attraversamento dei confini invece tra i diversi stati membri dell'Unione Europea ma in ogni caso la classificazione rileva anche in questi passaggi perché deve essere dichiarata ad esempio negli elenchi repilogativi intrastat questo adempimento relativo alla classificazione quindi è dovuto per individuare per ciascun prodotto movimentato la fiscalità doganale e quantificare di conseguenza il dazio dovuto la procedura di classificazione è tuttavia necessaria per numerosissime altre finalità che ora andremo a vedere che servono quindi non solo per determinare gli elementi in base ai quali sono applicate le misure di carattere doganale ma per verificare tutte quelle misure anche diverse dei dazi misure di politica commerciale di vieti economici che vengono disciplinati proprio in ragione della classificazione tariffaria delle merci realizzata impiegando la nomenclatura doganale di riferimento la qualificazione della merce corrispondente diciamo al codice che viene ritenuto idoneo a rappresentare la natura dei prodotti movimentati costituisce proprio il cosiddetto codice doganale o voce tariffaria che determina in primis sicuramente l'entità dell'aliquota daziare eventualmente applicabile ma non esclusivamente questa infatti diciamo che il codice di classificazione è fondamentale anche perché consente di individuare ad esempio le aliquote IVA e lo stesso è fondamentale individuare il codice di classificazione della merce per poter verificare anche l'accisabilità dei prodotti che stiamo movimentando questo per dire che nessuna merce può essere sottratta a tale procedura e non è possibile di fatto ammettere alcun tipo di prodotto di provenienza estera del quale non siano note tutte quante le caratteristiche peculiari ed in particolare il codice di nomenclatura adesso applicabile ciò vale sicuramente in importazione ma come vedremo anche in esportazione che cosa succede spesso come ci raccontava Massimo spesso accade che le aziende demandano completamente a terzi spesso al docanalista il compito di individuare la classificazione delle merci in realtà dobbiamo ricordare che questo non è affatto corretto perché per quanto possa essere perfetto il lavoro del docanalista soprattutto per i prodotti più sofisticati solo i tecnici aziendali possono fornire in verità quelle informazioni che consentiranno al professionista di stabilire la giusta codifica delle merci che è necessaria per l'operazione docanale per l'effettuazione dell'operazione docanale in primis per l'applicazione dei dazi all'importazione che possono variare sensibilmente anche all'interno della medesima voce Massimo perdonami forse è ancora l'audio aperto quindi che cosa dobbiamo ricordare che un'analisi carente o superficiale da parte degli operatori della classificazione può creare delle importanti problematiche generate dall'errata classificazione del prodotto ai fini docanali quindi dobbiamo rammentare che è un tema al quale si deve prestare molta attenzione in primo luogo come vedremo una corretta classificazione docanale infatti rappresenta uno strumento di pianificazione economica importante potremmo dire di tax planning perché è finalizzata rispetto ovviamente a normativa a minimizzare l'imposizione docanale l'errata classificazione docanale di un prodotto potrebbe infatti determinare l'applicazione di una più elevata liquida del dazio docanale rispetto a quella effettivamente dovuta con relativo incremento peraltro del prezzo al consumo una conseguente maggiore difficoltà di accesso al mercato in secondo luogo una corretta classificazione docanale delle merci rappresenta uno strumento di tutela per l'impresa quindi oltre che tax planning dobbiamo parlare anche di tax compliance che è finalizzato a prevenire eventuali contestazioni da parte delle autorità competenti e questo aspetto è ancora più importante lo ricordiamo ma poi dedicheremo un webinar proprio a questo tema anche alle recenti innovazioni normative che hanno coinvolto la normativa 231 del 2001 che disciplina responsabilità amministrativa delle persone giuridiche la normativa in questione infatti prevede come tutti sanno che sia predisposto un modello organizzativo il cosiddetto modello 231 per l'appunto nella prospettiva di salvaguardare la responsabilità penale delle società ecco dal primo luglio del 2020 dell'anno scorso tra i reati ricompresi nell'alveo della disciplina 231 assume rilevanza anche la materia doganale e gli eventuali reati che discendono dall'omesso insufficiente pagamento dei tazzi doganali in realtà quello che anticipavo poco fa il tema della compliance non si pone solo con riferimento all'importazione ma anche in esportazione infatti proprio in ragione delle disposizioni in materia di controllo delle esportazioni e di due use in particolare è fondamentale il codice di classificazione perché consente una prima e necessaria due diligence soggettiva del bene destinato all'esportazione ancora la corretta classificazione delle merci risulta di estrema rilevanza ad esempio anche per la determinazione dell'origine delle merci in relazione ai quali una corretta classificazione doganale consente di identificare la corretta regola di preferenzialità che deve essere attribuita al prodotto di riferimento diciamo questi sono tutti alcuni non tutti in realtà i numerosi motivi per cui una delle attività senz'altro più complesse che deve compiere una società è quella relativa ad avere una buona gestione dei criteri di classificazione del resto questa è una delle materie senz'altro più oggetto di contraddittorio con la dogana ebbene quindi a tutte queste necessità deve rispondere proprio l'esigenza di essere consapevoli di come si gestisce la classificazione andiamo a vedere dunque quali sono gli elementi a cui fare riferimento per determinare la corretta classificazione doganale allora la classificazione da rifare di una merce consiste nell'individuazione della sottovoce della nomenclatura combinata in cui tale merce deve rientrare per fare questo abbiamo a disposizione delle fonti iniziamo a vedere quali sono queste fonti che poi analizzeremo nel dettaglio il primo strumento sono sicuramente le note esplicative del sistema armonizzato in pratica si tratta di decisioni e pareri di classifica che sono stati elaborati a livello internazionale che pur non avendo un carattere vincolante costituiscono comunque un utile riferimento per determinare la classificazione dei prodotti il secondo strumento è ovviamente tutta la disciplina unionale in materia di classificazione doganale che è contenuta nel regolamento numero 2658 del 1987 relativo proprio alla nomenclatura tariffaria e statistica dalla tariffa doganale che contiene quindi la taric che come vedremo nel dettaglio più avanti viene annualmente aggiornata e rivista e non contiene esclusivamente il mero elenco dei codici di classificazione ma anche un altro strumento di grande ausilio che è rappresentato dalle regole generali per la determinazione di classificazione che racconterà poi nel dettaglio massimo con i relativi esempi per spiegarvi come ci si approccia ad una corretta classificazione doganale delle merci in terzo luogo ricordiamo che possiamo utilizzare il portale Aida online dell'agenzia delle dogane che contiene tutta la tariffa doganale e le varie quindi non solo la misura dei dazi ma anche di misure diverse dai dazi riferite alle singole merci si può inoltre far riferimento a eventuali pareri e regolamenti di classificazione che la commissione europea adotta con riferimento a specifici prodotti ancora un database fondamentale per la gestione di una corretta classificazione è quello che riguarda la raccolta delle ITV che vedremo nel dettaglio più avanti le informazioni tariffari vincolanti che sono uno strumento che consente a qualsiasi operatore economico di conoscere in via preventiva la posizione ufficiale dell'autorità doganale in merito alla classificazione tariffaria attribuibile ad una determinata merce ecco in questo database sono pubblicate tutte le informazioni tariffari vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli stati membri consultabili sulla base di questo motore di ricerca infine rammentiamo che esistono anche le note esplicative della nomenclatura combinata che sostanzialmente non sostituiscono quelle del sistema armonizzato ma sono complementari utilizzate in connessione con le note esplicative appunto al sistema armonizzato andiamo a vedere dunque come anticipato il sistema armonizzato si vedono le slide perdonami Massimo si vedono le slide perché non riuscivo a caricarle si vede tutto penso di sì si vede perfetto ogni prodotto importato nell'Unione Europea come dicevamo deve essere identificato da un codice di classificazione tra quelli presenti nella tariffa doganale comune al fine di individuare sia la relativa fiscalità doganale sia le misure di natura extrafiscale che cos'è il codice di classificazione il codice di classificazione di un prodotto è meramente una sequenza numerica ecco l'esigenza di poter gestire i rapporti internazionali in forza di un unico linguaggio merceologico ha determinato la necessità di ricorrere ad un sistema comune che rappresentasse inequivocabilmente la proprietà caratteristiche delle merci movimentate quindi a partire dal gennaio 1988 proprio per facilitare gli scambi internazionali è entrata in vigore la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di desegnazione e codificazione delle merci il sistema armonizzato per l'appunto che è stato al quale ha aderito la allora comunità europea nel 1987 quindi questo ha consentito una vera e propria unificazione a livello mondiale dei sistemi di classificazione e codificazione delle merci che formano oggetto degli scambi internazionali tutte le parti contraenti della convenzione si sono impegnate ad adottare le nomenclature tariffarie a ricevere tutte le voci le sottovoci ma anche a implementare le regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato che sono all'interno di questo previste la struttura del sistema armonizzato sostanzialmente si articola in due parti la prima prevede la designazione delle merci che comprende 97 capitoli che sono distribuiti in 21 sezioni le quali corrispondono alla quasi totalità dei principali settori merciologici vengono poi individuati i corrispondenti numeri di codice sono previste anche 6 regole generali di interpretazione le note e le premesse alle sezioni e dai capitoli la classificazione del sistema armonizzato si dispiega come vedremo meglio più avanti su 6 cifre le prime 2 individuano il capitolo la terza e la quarta la voce docanale la quinta la sottovoce la sesta la ripartizione di una sottovoce il codice viene poi completato con la designazione della merce l'adozione del sistema armonizzato è stato un grandissimo risultato da parte degli stati che hanno aderito alla convenzione perché ha consentito di uniformare il linguaggio docanale negli scambi tra tutti i più importanti paesi e raggruppamenti economici del pianeta andiamo a vedere diciamo quali sono sostanzialmente le sezioni a cui fa riferimento il sistema armonizzato ecco il sistema armonizzato come dicevamo si suddivide in 21 sezioni che vedete indicate sinteticamente in queste slide queste 21 sezioni sono a loro volta divise in 97 capitoli circa 5400 voci a 6 cifre per organizzare la classificazione delle merci si inizia dai prodotti base come vedete nella sezione 1 si fa riferimento agli animali vivi nella sezione 2 ai prodotti di origine vegetale fino ad arrivare ai prodotti più sofisticati dell'attuale tecnologia che sono ad esempio indicati nella sezione 16 dove si parla di macchinari compresi computer e smartphone la sezione come dicevamo comprende uno o più capitoli a due cifre che si articolano a loro volta in voci a 4 cifre e sottovoci a 6 come vedremo e ora avrà modo di raccontarci Massimo dal sistema armonizzato tra le mosse e la nomenclatura combinata che è stata istituita per la prima volta dal regolamento numero 2658 del 1987 che si basa per l'appunto su questo codice numerico a 6 cifre aggiungendone due successive la nomenclatura combinata è infatti composta da 8 cifre per la descrizione della nomenclatura combinata ripasso la parola a Massimo grazie Aurora e andiamo avanti peraltro stavo rispondendo ad una domanda ma mi viene l'occasione quindi di farlo in diretta ci si poneva adesso il problema uno dei partecipanti e tra l'altro ringrazio tutti perché l'audience è davvero veramente estesa di chi sia responsabile adesso non riesco a far girare le slide mi senti Aurora mi sentite? come prima è successo ecco adesso ok adesso sta girando allora stavo dicendo che mi si chiede chi si è responsabile per l'indicazione del codice di classificazione allora in linea generale il responsabile è sempre il soggetto che forma la dichiarazione docanale in esportazione o in importazione ora qual è il punto? se un soggetto esporta e come mi sta dicendo il partecipante che propone questa domanda e da consapevolezza di quale sia il codice da utilizzare ebbene certamente sarà responsabile della dichiarazione di esportazione cosa accade invece al suo cliente verso l'audio Massimo dunque io credo che mi sentiate io sento vi sento adesso 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 ti sentiamo non so come mai qui sono collegato allora stavo dicendo che invece il soggetto importatore sarà responsabile certamente della propria dichiarazione docanale ma dovrà verificare che quel codice proposto da chi stia fornendo la merce sia coerente con le indicazioni della tariffa domestica andiamo avanti e cerchiamo di vedere come si struttura il codice di classificazione che come avete visto parte da un sistema armonizzato che è condiviso a livello globale dal 98% del mercato e che poi si disarticola in successive raffinazioni che però hanno a questo punto non più una valenza globale ma domestica legata alla tariffa applicabile nel paese e nella giurisdizione nella quale poi il prodotto sarà movimentato questo ci porta a dire dunque che bisogna prestare attenzione a quando un codice di classificazione viene trasferito a noi è capitato il caso di un'azienda italiana nel settore della moda che esportava prodotti di pelletteria i quali prodotti venivano segnalati con il codice di nomenclatura combinata quindi ad otto cifre al soggetto importatore alla corporation in realtà consociata che importava nel territorio nordamericano negli Stati Uniti e nel Canada cosa è successo che l'importer of record negli Stati Uniti prendeva le otto cifre proposte dall'esportatore italiano e le poneva all'interno della dichiarazione di importazione negli Stati Uniti l'effetto che è stato rilevato l'effetto distorsivo che è stato rilevato intanto per i guanti di pelle di cerbo ricordo furono che utilizzando il codice di nomenclatura combinata che era strutturato con la settima e l'ottava cifra unionale portava l'applicazione di un codice nella tariffa statunense che applicava una liquota del 4% in luogo di quella del 16% che avrebbe dovuto pagare quello stesso prodotto se avesse espresso in dichiarazione la settima e l'ottava cifra della giurisdizione domestica quindi quale fu l'impatto che alla società fu contestata la falsità in dichiarazione doganale furono richiesti i dazi nella differenza tra il 4% per ciò che aveva dichiarato il 16% più le sanzioni più gli interessi oltre ad avere evidentemente un impatto reputazionale sulla comunicazione del marketing dell'azienda perché fu pubblicamente censurata su alcuni media che proponevano il fatto che quell'azienda aveva voluto cogliere un vantaggio proprio facendo una diversa indicazione di classificazione ecco quindi la criticità di utilizzare un codice di classificazione che per darci un metodo vale sempre in tutto il mondo fino alle 6 cifre quando si muove un prodotto in esportazione e si accompagna il prodotto con documenti che rappresentino un codice che vada oltre la stessa cifra va precisato a beneficio di tutti soprattutto delle autorità di controllo e se sto indicando un codice di nomenclatura combinata ad 8 cifre si tratta di quella espressa dalla tariffa doganale unionale in modo tale che l'importer on record che sia negli Stati Uniti o ovunque nel mondo legga che quel codice ad 8 cifre è unionale e quindi possa trasportare trasferire quel codice sulla propria tariffa domestica e quindi non incorrere in contestazioni andando avanti sulla nomenclatura combinata quindi abbiamo compreso da questo caso che ci ha dato l'opportunità di parlarne che è un'integrazione al sistema armonizzato che dunque aggiunge per successiva raffinazione come previsto da un regolamento unionale della nostra giurisdizione una settima ed ottava cifra quindi ancora una volta attenzione il codice ad 8 cifre che noi leggiamo sul regolamento tariffa è un codice unionale che affonda le radici nelle prime 6 cifre del sistema armonizzato uniformemente applicate nel mercato globale ma che esprime una caratterizzazione domestica di cui bisogna tenere conto quali sono i dati che ci offre la nomenclatura combinata sono certamente le disposizioni preliminari con cui si propongono le regole generali di interpretazione la tabella dei dati applicabile la quale proporrà in ragione delle diverse sezioni quali siano le diverse categorie ovviamente qual è il codice scusate l'aliquota daziaria di riferimento e poi ovviamente gli allegati tariffari che propongono talune peculiarità soprattutto per i prodotti agricoli quelli che ricordate erano vincolati alla PAC e quelli legati al settore farmaceutico la tariffa integrata della comunità che ha come dire l'onere il compito di rappresentare quali siano tutti i diversi trattamenti non soltanto in termini daziari che sono dedicati alla merce movimentata all'interno del circuito doganale comunitario quindi in importazione ma anche in esportazione si compone di una serie di diverse istruzioni che servono a offrire all'interprete ogni elemento necessario proprio per comporre la dichiarazione doganale in modo corretto andando avanti nel processo di raffinazione non ci si ferma alla ottava cifra ma come vedete esistono le sottovoci di Taric ancora una volta queste con rilevanza esclusivamente domestica e lo voglio ricordare nel nostro contesto domestico vuol dire a livello di paesi membri dell'Unione Europea e la quale tariffa la quale sottovoce con una nona e decima cifra continua ad aggiungere informazioni rispetto alle peculiarità di un prodotto e dunque consentono alle interprete di identificare esattamente le coordinate di riferimento e poterà quindi formare una dichiarazione doganale che come vedremo più avanti non deve limitarsi a dare un'indicazione generale del prodotto perché si rischia di subire un dazio più elevato di non intercettare misure di politica commerciale che se trascurate se non rappresentate in atti potrebbero condurre ad una sottrazione del prodotto all'accertamento un difetto di classificazione in importazione che dia ad un prodotto una certa caratteristica e si discosti dall'effettivo codice che sarebbe applicabile con le misure di politica commerciale previste dalla Tarek potrebbe per esempio non far rilevare all'interprete quindi a chi forma la dichiarazione l'esistenza di una tariffa anti-dumping e dunque potrebbe il soggetto che trascurasse questa circostanza dando un'indicazione di classificazione non appropriata non riconoscere il provvedimento non avvedersene quindi importare un prodotto pagando un dazio ordinario salvo poi accorgersi per un effetto per un accertamento a posteriori che in realtà avrebbe dovuto pagare un dazio anti-dumping quindi esponendosi a quelle censure amministrative e penali che questo potrebbe comportare la fine dei conti lo vedete il codice di classificazione che consta innanzitutto del capitolo poi della voce della sottovoce con ciò portandoci alla caratterizzazione del sistema armonizzato si integra con una serie lo dicevo di raffinazioni successive che alla fine danno il quadro esatto di un prodotto con tutto ciò che l'operatore che formerà la dichiarazione doganale deve necessariamente sapere per aggiungere ad una finalizzazione del documento che è atto pubblico senza dover rischiare contestazioni abbiamo parlato dunque di un codice numerico che identifica quale sia il prodotto in particolare ma come si fa ad attribuire la classificazione prima dicevamo anche con la collega che spesso ci si riferisce a terzi vi ricordavo il caso ricorrente di chi faccia riferimento ad un codice di classificazione ricevuto da un fornitore bene in realtà esistono delle regole precise l'identificazione del codice di classificazione risponde ad un percorso che ci viene raccontato dal regolamento 2658 dell'87 che ha introdotto nel bacino unionale il sistema armonizzato e che ogni anno subisce come dire un aggiornamento per il tramite del proprio legato 1 il quale nel mese di ottobre propone ogni anno la tariffa doganale che sarà applicata dal primo gennaio dell'anno successivo come si fa a capire quale sia il codice di classificazione di un prodotto ebbene ci sono sei regole c'è una sorta di usiamo un termine ormai diciamo inflazionato di roadmap ma di percorso ecco diciamo un percorso analitico che l'interprete tanto privato tanto quello pubblico deve fare per coprire davvero il prodotto che sta per muovere la componente semilavorato che tipo di classificazione debba avere come vedete si parte dalla descrizione delle note di capitolo se sto trattando un alcol devo sapere che esiste un capitolo che è dedicato agli alcoli siano essi destinati all'uso umano quindi al consumo per bevande alcoliche sia esso dedicato a destinazione industriale magari per la formazione di un prodotto farmaceutico dunque si tratterà di identificare quale sia il capitolo e di analizzare nelle note nelle voci nelle sezioni quale siano le istruzioni che il legislatore unionale ci ha offerto con riferimento a cosa debba andare in quel capitolo dopodiché si tratterà di fare una serie di analisi adesso vedremo alcuni esempi su comprendere quale sia lo stato di avanzamento del prodotto in analisi se sia un prodotto finito se sia un prodotto incompleto e dunque vedrete c'è una serie di attenzioni che deve essere mossa così come quale sia laddove esista la possibilità di inquadrare il prodotto sotto due o più voci quale sia quella che effettivamente esprime l'essenzialità del prodotto così come esiste una casistica dedicata ai beni simili per i quali si fa ricorso in assenza di una classificazione educatale specifica a quella che riflette più da vicino le caratteristiche del prodotto in esame e poi c'è una disciplina dedicata ai materiali di imballaggio se dedicati ad un prodotto quindi nati per seguire un prodotto in via esclusiva o se invece destinati a fornire o ad essere impiegati per diverse tipologie di prodotto e in chiusura di questo percorso di analisi si fa riferimento alle note di sottovoce ma vediamo in particolare partendo dai titoli di sezioni i quali ovviamente sono indicativi ma ci danno già un orientamento su dove ci troviamo se stiamo analizzando un prodotto elettronico o un telefonino uno smartphone o un rasoio elettrico non potremo che andare nel capitolo 85 che racchiude questa tipologia di prodotto e troveremo la descrizione di ciò che esprime quel capitolo proprio nelle note le quali i titoli di sezione e il capitolo ci raccontano qual è lo spirito e l'obiettivo di quel tipo di catalogazione andando invece nel merito dell'analisi la regola 2A come vi dicevo vuole cautelarsi rispetto ad un approccio aggressivo da parte di operatori che propongano alla interlocuzione con l'ufficio doganale che poi formerà il documento di importazione e di esportazione un prodotto incompleto e questo diciamo possa non essere già ancora utilizzabile come prodotto finito la disposizione che qua si pone anche come in qualche modo antielusiva vuole riportare un prodotto incompleto o non finito ad un prodotto finito qui al di là dell'esempio che vedete a video per il quale si propone il caso di un vestito che non abbia ancora i bottoni e addirittura non abbia le imbastiture questo non era possibile rappresentarlo e che non potrà certamente essere classificato come tessuto ma avrà già tutte le caratteristiche del prodotto finito ecco questo è il caso di scuola nel quale se arrivasse un vestito senza bottoni o senza imbastiture da un fornitore di un paese terzo non lo si potrà certamente classificare come tessuto ma dovrà risalire la valutazione di classifica al prodotto finito e quindi andare classificato come vestito questa circostanza è una circostanza che è ricorrente non è capitato il caso di un'azienda alla quale aveva una linea di produzione di borse che era diciamo alimentata data l'una ai componenti che venivano acquistate da fornitori residenti in paesi terzi dunque venivano importate per le borse le maniglie i lati della borsa talvolta il fondello o le zip la questione veniva proposta diciamo l'insieme di questi materiali venivano proposti in importazione come 4205 che è il codice la voce doganale che propone le componenti delle borse poi quelle componenti una volta importate con il 4205 venivano fatte oggetto di una lavorazione artigianale complessa e otteneva una borsa con una voce doganale 4202 ora quale fu il problema da affrontare qualche ufficio doganale vedendo buona parte delle componenti come espressione alla fine di un prodotto finito ha ipotizzato la possibilità di ricorrere alla regola 2A dicendo si tratta di diverse componenti a mio giudizio applicando la 2A non è un prodotto incompleto che dunque merita di essere classificato come il prodotto finito l'effetto di questa valutazione sarebbe stata in importazione che le componenti le quali singolarmente avrebbero avuto codice 4205 potevano essere classificate già come borsa 4202 ora il problema non era tanto in termini di diversità di aliquota applicabile ma era l'effetto quello che dicevamo veramente all'inizio che questa valutazione avrebbe avuto sull'origine della borsa ottenuta perché dichiarate le componenti già come 4202 quindi borsa indipendentemente dal tenore dal lavoro scusate dal tenore e dal valore delle lavorazioni eseguite su ogni singola borsa del nostro paese non avendo il salto di codice perché venivano dichiarate le componenti come 4202 il codice della borsa sarebbe rimasto 4202 ebbene quella borsa che implicava un'attenzione artigianale elevatissima non avrebbe potuto freggiarsi del made in Italy perché non c'era in quella circostanza non ci sarebbe stato il salto di codice ecco dunque che la soluzione poi lo vediamo nella ultima parte del nostro webinar è quella di mettere al sicuro il codice di classificazione fu quella di mettere al sicuro il codice di classificazione chiedendo all'autorità doganale di riconoscere ogni singola componente con ITV dedicata con informazioni per fare vincolante per obbligare ogni ufficio doganale in Italia e nei paesi membri a riconoscere l'importazione di queste componenti al codice 4205 e con ciò salvare con questa indicazione di codice la potenziale applicazione della regola 2A e consentire alle componenti dichiarate 4205 di assumere la forma e il valore di una borsa con la voce 4202 quindi vedete che la regola del prodotto incompleto può nascondere delle insidie ma è bene ricordarla perché certamente questa può essere applicata agli uffici doganali un altro esempio di questa regola più aderente alla realtà è quello per il quale anche questo con evidenti implicazioni in tema di origine è legato ad una particolare calzatura la quale veniva proposta con già la presenza della tomaia esterna della tomaia interna la discussione che è stata addirittura portata all'attenzione della corte di giustizia era quella se si dovesse applicare la voce 6406 quindi parti di calzature ricordate quanto abbiamo appena detto con riferimento alle parti della borsa o se invece dovesse essere già inteso questo prodotto grezzo come calzatura qui il risultato che ha dato la corte è stata quella di riconoscere per il fatto che ci fossero entrambe le tomaie quella superiore e quella inferiore in realtà la riferibilità di quel similavorato ad una calzatura finita ecco che dunque al passaggio del confine applicando qui a questo punto per effetto di una decisione addirittura dalla corte di giustizia il codice 6404 mai e poi mai quella semilavorato dichiarato già scarpa già calzatura in importazione per quanto possa essere impattante la lavorazione effettuata nel nostro territorio o nel territorio di importazione potrà ottenere il riconoscimento di made in stato membro nel quale quel finissaggio sarà effettuato ecco dunque come è importante la classificazione anche e soprattutto come dicevamo in prospettiva di far sopravvivere o di dare evidenza ad un'origine che è più importante rispetto poi a delle lavorazioni che vengono eseguite un'altra regola che va considerata quando si gestisce un'analisi di classificazione è quella di tenere conto di tutte le diverse componenti perché può capitare che un prodotto non sia rappresentato da una sola componente o da una sola materia qui abbiamo messo per gioco e per rappresentazione come possa essere rilevante nella valutazione di un cocktail la composizione percentuale per ragione del fatto che ci sia la vodka il martini o l'apero spritz ovviamente ciascuna di queste componenti all'interno del prodotto finito deve essere osservata e potrà condurre ad un codice ad una voce due canali piuttosto che ad un'altra ragione poi della maggiore o minore presenza di taluna delle componenti che sono rappresentate e che devono partecipare alla valutazione che farà l'interno abbiamo poi qui la regola 3A che è quella più interessante quella che è più ricorrente nelle valutazioni di classificazione accennavo veramente all'inizio che talvolta capita lo vedremo tra un attimo tra uno slide con un esempio concreto che venga affidata la identificazione di un codice di classificazione ad un soggetto terzo per quale magari non vengono date tutte le informazioni di cui avrebbe bisogno in un traffico di componenti indistinte può essere anche ragionevole e può essere più semplice ricondurre componenti con caratteristiche oggettive tutte diverse le une dalle altre ad una macro classe questo in realtà non è quello che si aspetta la tariffa adoganale perché se da una parte in termini di configurazione della dichiarazione può sembrare una soluzione semplice diciamo il caso ho 20-30 componenti diverse nel settore dell'automotive tutte diverse che avrebbero tutte proprio in ragione di una analisi specifica sulla loro funzionalità ciascuna avrebbe la sua voce specifica si decide per rapidità anche di relazione con l'autorità adoganale di ricondurre tutto ad un unico codice questo in realtà potrebbe rappresentare una circostanza penalizzante per l'azienda tra quel caso l'automotive che ci è capitato e che rappresenta tutt'oggi un caso davvero di scuola che ci consente di capire quale sia l'impatto di una tale anomalia il caso era quello di fare un assessment su un'azienda per verificare in senso ampio se ci fossero opportunità di ottimizzazione del rapporto internazionale tra le altre cose abbiamo trovato proprio in materia di classificazione che come vi raccontavo in importazione l'approvvigionamento di componenti veniva tutto ricondotto pur con componenti molto diverse ad un unico codice parti di motoveicoli 8714 9130 con una liquida naziaria che arrivava al 4.7% in realtà in applicazione proprio della regola 3A ed applicando la voce più specifica era chiaro che singolarmente riconoscendo il carburatore il filtro la biella o la rondella si arrivava ad un codice che era più o meno all'1.7% ma addirittura in media anche più basso qual è quindi l'effetto di non riconoscere la voce più specifica in linea generale e forse molto più spesso di quanto invece non accade al contrario si otterrà un dazio più elevato quindi chi utilizzi un codice generico di importazione si esporrà ad un maggiore accertamento doganale quindi pagherà un dazio maggiore e qui la buona notizia fu e lo è per chiunque poi abbia l'attenzione di riportare il dazio alla voce più specifica fu che dal giorno dopo si è iniziato a pagare il dazio corretto quindi diciamo 1.7% anziché 4.7% ma la notizia più interessante fu che è stato possibile come è sempre possibile per la società tornare in dogana e dire cara dogana ho sbagliato ti ho raccontato ti ho dato dichiarazioni doganali con un codice di classificazione generico e non appropriato ti chiedo di fare revisione dell'accertamento e di restituirmi il delta tra l'1.7% che avrei dovuto pagare e il 4.7% che in realtà ti ho pagato la buona notizia è che nei tre anni il volume la quantità del materiale importato aveva portato ad una somma significativa che poi l'azienda è riuscita a riportare dunque la voce più specifica certamente è quella più interessante ma un altro aspetto che deve essere considerato è che si pone quando il prodotto analizzato del quale abbiamo riconosciuto le caratteristiche peculiari esprime in realtà funzionalità diverse o ci possa diciamo indurre in errore perché guardandolo da una parte o dall'altra potrebbe avere un codice di un tipo o un codice di un altro facciamo un esempio ma vorrei intanto ricordare quanto è avvenuto nel caso anche qui di scuola poi trattato dalla corte di giustezia del kit da barba per uomo il quale vedeva coinvolti codici di classificazione diversi quello dell'astuccio di pelle quello della pennello quello della crema da barba e poi alla fine quello del rasoio quindi avevamo quattro diverse voci doganali per le quali ci si chiedeva in importazione quale fosse quella rappresentativa del tutto anche qua applicando la regola del carattere essenziale la corte di giustizia ha detto che ovviamente in questo contesto il carattere essenziale in applicazione della regola 3b era da ricondursi al rasoio dunque quel kit così come ve l'ho raccontato ha merito e ha la possibilità oggi di muoversi sul territorio unionale soltanto con il riconoscimento della voce doganale del rasoio pur avendo in realtà nel suo insieme prodotti con voci oggettivamente diverse il carattere essenziale peraltro è un tema ricorrente nella interlocuzione tra uffici doganali e operatori economici qui vedete un altro caso quello per il quale per guanti così come li vedete si poneva la possibilità di utilizzarli diciamo di fare riferimento alla materia di cui erano composti quindi indumenti 3926 oppure di riferirsi al 6116 che in realtà trattava da più in particolare guanti mezzo guanti e muffole bene qui la decisione della corte di giustizia è stata quella di attenersi alla guanto da equitazione quindi alla diciamo alla sottovoce 3926 per le caratteristiche pepuliari che davano essenzialità a quel prodotto quindi con ciò escludendo imbarazzi in sede di classificazione ma il problema del carattere essenziale si pone soprattutto quando un prodotto abbia una multifunzionalità qui vedete uno di questi aggeggi i droni che vediamo sempre più spesso volteggiare sulle nostre teste credo che forse non avendolo guardato con occhi di classificazione doganale non vi sia mai sorto il dubbio ma qui lo pongo su questo tavolo virtuale di quale potrebbe essere il nome doganale di questi prodotti certamente potrebbero essere altri veicoli aerei certamente sono e lo sono da quando sono stati introdotti dei giocattoli a motore ma potrebbero essere assorbiti dal fatto che in realtà sono molto spesso utilizzati per fare delle videoriprese e quindi potrebbe essere assorbente il codice di classificazione della videocamera per spoilerare qual è stato il successo l'esito finale di queste valutazioni fatte a livello di organizzazione mondiale delle dogane sappiate che dal 2022 con la rivisitazione che viene fatta a livello di OMD con cadenza quinquennale il codice di classificazione che sarà applicabile a questi droni sarà quello di altri veicoli aerei e qua vedete questo tipo di classificazione che sarà operativa dal 2022 porterà dietro una serie di altre implicazioni regolatorie se si tratterà di altro veicolo aereo è evidente che non tutti potranno utilizzarlo poi veremo se ci saranno delle declinazioni di potenza ma insomma la classificazione al di là del codice porterà con questa scelta la necessità di identificare il destinatario finale o chi potrà acquistarlo che dovrà essere evidentemente in possesso delle qualifiche per potersi avvalere di un prodotto di questo ma sempre ragionando in termini di carattere essenziale in questo caso qual è il carattere essenziale è il fatto che ci sia un giocattolo all'interno dell'ovetto che tutti conosciamo oppure il carattere essenziale come è stato per i guanti che abbiamo visto prima deve ricondursi alla componente principale del prodotto così come è stato proposto oppure vi do un altro caso del tutto analogo che ci è stato sottoposto qualche tempo fa in prossimità del Natale un'azienda molto diciamo con un brand molto esposto sul settore dell'underware mi aveva chiesto se proponendo sul mercato in prossimità delle vacanze natalizie un intimo da donna all'interno di un peluche quindi di un orsacchiotto di un coniglietto il codice di classificazione applicabile potesse essere quello del peluche piuttosto che quello dell'underware attribuendo con ciò il carattere essenziale in applicazione della regola 3b al peluche bene lì evidentemente se potessi fare disclosure del brand tutti andreste sulla soluzione dell'underware perché il richiamo di marketing di quel marchio è talmente aggressivo talmente importante sull'underware che sarebbe stato difficile sostenere anche in dogana che il carattere essenziale era dato dal coniglietto però vuol dirvi che le implicazioni sono tali e tante che possono essere regolate lo vedremo alla fine in via definitiva convenendo con l'autorità doganale quale sia davvero il carattere essenziale e quindi ottenendo un ITV che poi potrà essere vincolante sia nei rapporti tra pubblico e privato sia nei rapporti tra i privati un altro caso vedete ricorrente che adesso si pone con i nuovi prodotti la tecnologia che sul mercato inventa nuovi incroci nuove ibridazioni di accessori quindi vedete il caso di un tappetino il quale ha al suo interno la basetta che per contatto ricarica i nuovi smartphone allora la domanda che ci poniamo è quale sia il carattere essenziale se quello del fatto che si tratta di un altro lavoro in cuoio quindi 4205 ricordate lo stesso codice delle componenti delle borse o se invece si debba dare privilegio al carattere essenziale recato dall'essere quella tappetino un carica batterie per contatto di smartphone e quindi abbia merito per il codice di classificazione 85 e accade quando come anche nella circostanza precedente ci si trovi innanzi a due o più caratteri due funzionalità due o più funzionalità che hanno pari dignità almeno innanzi alla osservazione critica non solo dell'osservatore aziendale ma anche in capo all'autorità doganale dove non ci si possa diciamo spendere per l'una all'altra funzione quando queste in realtà hanno davvero pari dignità e qui ci aiuta ancora una volta l'esempio che è stato risolto dalla Corte di Giustizia per un prodotto per un macchinario che tutti conosciamo che tutti avete nel vostro ufficio in questo momento e che utilizziamo tutti i giorni mi riferisco a quelle stampanti multifunzione che possono essere scanner possono essere fotocopiatrici possono essere fax e dunque hanno delle funzionalità almeno nell'ordinetto di tre o quattro diverse prospettive la questione che poi qui è stata risolta lo vedete nel 2008 per Julip and Packard innanzi alla Corte di Giustizia ma in realtà era stato oggetto già nel 94 con la Xerox di analoga decisione riguarda proprio quale debba essere preferita o identificata come caratteristica essenziale sostanzialmente tra la macchina scanner quindi l'elaboratore dell'informazione o la fotocopiatrice e non potendo l'una prevalere sull'altra si è deciso ha deciso la Corte di fare riferimento alla regola 3C per la quale date due o più voci docanali si applica quella più alta in ordine numerico e in questo caso dunque la 90 09 che è stata preferita scelta con questo criterio di ordine numerico ed è dunque quella che avvince quei castronetti multifunzionali che utilizziamo nei nostri uffici che pur avendo tante diverse funzioni ciascuna identificabile con una specifica voce docanale ebbene tutte quante rientrano sotto il più ampio cappello della voce 90 09 stampante proprio in applicazione della regola 3c e questo varrebbe lo vedete per una serie una pletora di prodotti più diversi non soltanto non necessariamente nel settore dell'elettronica ma insomma in questo settore abbiamo delle multifunzionalità basterà pensare ma qui ci vorrebbe un webinar dedicato agli smartphone che utilizziamo tutti i giorni uno smartphone diciamo fa le foto fa i video vi consente di utilizzare le app andate le email andate sui social utilizzate whatsapp e alla fine telefonate anche ecco qual è ciascuna di queste ovviamente sarebbe rappresentativa o rappresentata da un codice di classificazione videocamera macchina fotografica registratore digitale computer e alla fine anche telefono ecco quale di queste funzioni è qualificante nel sistema armonizzato del 2022 c'è stata la soluzione lo si è inquadrato nel capitolo 85 su questo ripeto ci vorrebbe un webinar dedicato andiamo avanti ciò che conta diciamo a questo fine oggi è ricordare che la multifunzionalità può essere trattata o con il carattere essenziale laddove sia evidente l'una sulle altre come riferimento al tutto o laddove invece ci sia pari dignità si dovrà scegliere quella più alta in ordine numerico qui abbiamo invece riportato la regola 4 che ci pone un altro problema quando ci troviamo di fronte ad un prodotto il quale abbia delle sue caratteristiche che però non troviamo all'interno della tariffa l'approccio che suggerisce la regola di classificazione è di fare riferimento al prodotto che è con questo a maggiori analogie noi è capitato di fare analisi sugli stick delle sigarette elettroniche che in una modalità evoluta venivano proposti non più come contenitori di un liquido a nicotina ma come uno stick con tabacco trinciato in quella occasione da un punto di vista dell'analisi di classificazione si cercava di comprendere se esistesse e non c'era una voce doganale che proponesse lo stick che viene utilizzato per le sigarette elettroniche a composizione di tabacco ciò che veniva più immediato era di accostarlo alla classificazione doganale delle sigarette perché effettivamente a guardarlo era simile molto simile ad una sigaretta tradizionale fatto salvo che come ricordava Aurora poco fa accostare questo stick che in realtà non brucia ma che viene riscaldato e che viene utilizzato in una sigaretta elettronica ad una sigaretta classica non solo avrebbe portato allo stesso codice doganale con aliquota doganale ma anche avrebbe portato dietro tutto ciò che comporta l'accessibilità del prodotto quindi anche in quel caso come in ogni caso in cui l'evoluzione tecnologica offra o proponga sul mercato un prodotto che non si riesce ad inquadrare nei codici esistenti segnalo che si può fare un percorso di ricognizione innanzitutto con l'autorità doganale in area centrale condividendo il fatto che si rispone di un prodotto nuovo per poi risalire all'organizzazione mondiale delle dogane e cogliere quegli slot che vi dicevo si propongono periodicamente il prossimo nel 2022 con il quale la tariffa si aggiorna integra le proprie caratterizzazioni e laddove il qui lo vedete il gatto selvatico non era contemplato viene proposto con una sua specifica voce doganale e da quel giorno in poi sarà riconosciuto riconoscibile in tutti i mercati che aderiscano al sistema armonizzato quindi esiste sempre la possibilità per un'azienda che faccia dei propri prodotti per innovazione tecnologica nuove caratterizzazioni di prodotto ottenere riconoscimento per un codice di classificazione dedicato con un percorso istituzionale che può essere affrontato in ogni momento parlavamo poi delle regole riferite ai contenitori banalmente quando un contenitore nasce per accompagnare quello specifico prodotto ci si dimentica del carattere oggettivo del contenitore ma quel contenitore servirà il codice di classificazione del prodotto per cui è stato creato quindi sarà assimilato in tutto e per tutto al codice di classificazione del suo contenuto quando invece l'imballaggio ha una fecondità ripetuta e viene utilizzato per finalità diverse questi avrà il suo codice di classificazione che andrà identificato via via a seconda delle peculiarità dell'imballaggio in chiusura sulle regole che come vedete sono in sostanza un percorso che deve essere affrontato in realtà con il prodotto sul tavolo direi per poter apprezzare da un punto di vista merceologico tutte le caratteristiche e tradurle in termini legali su ciò che la tariffa ci offre e se la tariffa non ci offre un riscontro come dicevo poco fa la possibilità di fare un escalation in area centrale con la dogana di stato membro per poi arrivare alla organizzazione mondiale delle dogane ma in chiusura la regola numero 6 ci ricorda che esistono delle sottovoci di nota le note di sottovoci le quali ci danno ulteriori indicazioni sull'inquadrabilità di un prodotto all'interno di una certa categoria e dunque questo va analizzato vanno lette e di tutto questo alla fine deve tirarsi una riga per dire bene ho una calzatura o ho una componente di una calzatura piuttosto che ho un alcol 2207 o ho un alcol 2208 e attenzione questa scelta come dicevo potrà generare un effetto domino se fatta in modo incompleto o non esauriente portandosi dietro una serie di tare che non si esauriscono nel mettere in discussione il codice di classificazione e quindi il più o meno all'ipota naziare da pagare ma potrebbero avere degli impatti come abbiamo visto in talunni gli esempi che abbiamo fatto importanti sia sull'origine sia su profili regolatori sensibili come quelli del duale ecco qui le note di sezione che come vedete propongono una serie di diverse di cave se vogliamo ricordandoci cosa è escluso dal capitolo qui abbiamo il capitolo 85 quello nel quale poi ricadranno per esempio anche gli smartphone ma che ci offre la possibilità di dire subito bene il prodotto che ho in mano di cui ho consapevolezza posso in realtà includerlo in questo capitolo oppure no detto questo lascio la parola ad Aurora che vi potrà raccontare in realtà quali sono quegli strumenti che consentono di mettere al sicuro un'analisi così impostata che possa poi lasciare indenne l'operatore da ogni possibile claim da ogni possibile pretesa diversa non solo dall'autorità doganale di riferimento ma a talvolta anche da autorità estere a noi è capitato il caso di poter opporre in giurisdizioni non unionali evidenze oggettive affidate a documenti formali come le ITV rilasciate da un'autorità di stato membro ci capita di fare ricordare il caso del Sudafrica il quale non convinto di un codice di classificazione doganale proposto da una nostra azienda alla fine ha accettato il codice di classificazione perché l'azienda ha esibito una ITV unionale che non vincolava l'autorità sudafricana ma che però ha consentito a quell'autorità di dire beh si tratta di un documento ufficiale rilasciato da un'autorità doganale di un paese amico con la quale esiste una relazione lo sapete preferenziale e dunque la prendiamo per buona ecco perché è opportuno tenere in conto ciò che stiamo per vedere prego Aurora grazie Massimo come dicevamo il diritto doganale è oggetto di una regolamentazione unionale che deve trovare applicazione uniforme in tutti i paesi dell'Unione europea disciplinando quindi criteri applicabili ai fini della classificazione delle merci nella prospettiva che la medesima merce lo stesso bene non venga classificato in maniera diversa in due differenti stati europei quindi abbiamo visto come per determinare una corretta classificazione doganale occorra fare riferimento alle note esplicative del sistema armonizzato al regolamento che contiene la TARIC al portale AIDA online al quale vi è pubblico accesso che è contenuto nel sito dell'agenzia delle dogane ai regolamenti di classificazione e ai pareri di classificazione e non in ultimo nei casi più dubbi ciò che certamente può essere di supporto è il database della commissione europea che contiene le ITV ecco proprio al fine di superare le difficoltà di classificazione di garantire certezza e uniformità a livello unionale della classificazione doganale dei prodotti ma la normativa comunitaria ha previsto la possibilità di richiedere informazioni tariffari vincolanti le cosiddette ITV tutte le ITV possono essere che sono ancora valide possono essere pubblicamente consultate sul sito web della direzione generale fiscalità e unione doganale dove è contenuto questo database all'interno del quale sono pubblicate tutte le informazioni da rifare vincolante rilasciate dalle autorità doganali dei diversi stati membri che sono consultabili appunto laddove siano ancora valide al norma dell'articolo 14 del codice doganale dell'unione le autorità doganali sono tenute a fornire delle informazioni sull'applicazione della normativa doganale ivi compresa la classificazione delle merci quindi sulla base del cdu le autorità del cdu le autorità doganali non impongono alcun onere per l'espletamento di altre attività doganali che non siano quelle necessarie alle spese previste per l'analisi o la perizia delle merci sulle quali viene richiesta un ITV tuttavia che cosa differenzia diciamo l'ITV da una semplice consulenza richiesta alle autorità doganali allora le informazioni da rifare vincolanti sono giuridicamente vincolanti lo dice il nome stesso solamente se sono fornite nel quadro delle ITV queste hanno un carattere vincolante in tutti i loro elementi sia per le autorità doganali sia per i destinatari delle decisioni cosa diversa è quando ovviamente si forniscono informazioni informali da parte delle autorità doganali al di fuori del sistema delle ITV ecco in questo caso l'informazione ricevuta che molte società che conosciamo ci dicono ho avuto cognizione della classificazione di questo prodotto perché ne ho parlato col funzionario doganale Tizio piuttosto che Caio ecco queste informazioni ottenute a livello informale seppur utilissime non hanno alcuna valenza diciamo giuridica infatti non sono affatto vincolanti e diciamo che sono espressione di un orientamento specifico dello stesso funzionario che è stato interpellato questo significa che un soggetto diverso potrebbe avere una parere differente e quindi classificare a sua volta diversamente quel medesimo prodotto ecco proprio a questo fine è necessario laddove si abbia un'incertezza sulla classificazione del prodotto richiedere una ITV l'informazione tariffaria vincolante consente dunque a qualsiasi operatore economico residente nella comunità europea di conoscere in via preventiva qual è la posizione ufficiale dell'autorità doganale in merito alla classificazione tariffaria della merce in questione a seguito dell'adozione del codice doganale dell'unione nel maggio 2016 le nuove ITV hanno una validità di 3 anni mentre quelle rilasciate prima di questa data avevano una valenza di 6 anni l'autorità doganale deve rilasciare la decisione di ITV entro 120 giorni dall'accettazione formale della domanda al richiedente può essere concesso un periodo ulteriore di 30 giorni per fornire delle informazioni che sono reputate necessarie da parte dell'autorità doganale per dirimere appunto quale sia la classificazione tariffaria del prodotto in questione si tratta quindi di decisioni amministrative che hanno un rilievo comunitario e danno ad oggetto l'applicazione della normativa doganale e in particolare della classificazione delle merci a queste decisioni che appunto attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce con l'assegnazione del codice di nomenclatura che si ritiene adeguato viene riconosciuta piena efficacia giuridica su tutto il territorio comunitario questo significa che se io ottengo un'etv da parte dell'autorità doganale nazionale italiana questa è opponibile a tutte le amministrazioni di tutti gli stati membri quindi è valida in ogni stato dell'unione quindi sono certamente le tv vincolanti per tutte le autorità doganali questo significa che quel prodotto importato da quel determinato operatore che è rappresentato dal richiedente che ha fatto istanza per il rilascio dell'etv può utilizzare quel codice di classificazione che è stato attribuito dall'autorità doganale in Italia in tutti gli stati membri in cui effettua un'operazione di importazione proprio per questo motivo proprio per il fatto che devono essere riconosciute a livello unionale le tv rilasciate una volta devono essere trasmesse tempestivamente a tutta la commissione che appunto ne cura l'inserimento all'interno della banca dati che poi è liberamente consultabile da tutti gli operatori e da tutte le amministrazioni l'etv come dicevamo è vincolante assolutamente per le amministrazioni doganali ma è altresì vincolante anche per l'operatore economico che la richiesta e questa è un'altra diciamo novità del codice doganale unionale che è entrato in vigore il 1 maggio 2016 quindi quando si chiede un'etv è molto importante riuscire a esprimere il proprio orientamento circa il corretto la corretta classificazione tariffaria delle merci perché una volta ottenuta una risposta o un riscontro all'etv queste divengono vincolanti per l'operatore per un periodo di 3 anni a decorre dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia le tv devono poi riferirsi ad un'operazione commerciale di importazione ovvero di esportazione che sia stata realmente prospettata e devono avere ad oggetto una sola tipologia di merce infatti si deve dare prova all'atto dell'importazione ovvero dell'esportazione del fatto che le merci dichiarate per le quali si vuole applicare il codice di classificazione ottenuto tramite tv corrispondano sotto tutti gli aspetti a quelli descritti nella decisione in questione merci che hanno caratteristiche simili la cui distinzione è completamente rilevante ai fini della loro classificazione possono essere considerate come lo stesso tipo di merce come dicevamo le tv vengono rilasciate dall'autorità a titolo gratuito salva la facoltà di addebitare al richiedente le spese che sono state necessarie per l'effettuazione di analisi chimiche ovvero di perizie sulla merce laddove queste siano state opportune come come dicevamo le tv possono essere richieste da un operatore commerciale o da un suo rappresentante all'autorità doganale competente l'importante è che questo soggetto il richiedente abbia ottenuto il codice eori che è essenziale deve essere identificato deve essere indicato all'interno della richiesta di tv può accadere che la richiesta di tv non venga accettata laddove ad esempio questa stessa istanza sia già stata presentata presso lo stesso o un altro ufficio doganale da o per conto del medesimo richiedente questo diciamo è un fenomeno molto particolare che viene definito il cosiddetto shopping di tv ed è il motivo per il quale è stata presentata è sorta la necessità di gestire a livello telematico tutte le informazioni da rifare vincolanti che dal primo ottobre 2019 devono essere presentate e gestite in modalità per l'appunto telematica la metodologia in questione come dicevamo è stata adottata proprio per impedire il cosiddetto shopping di tv che cosa significa shopping di tv è un'espressione che viene tecnicamente utilizzata per descrivere una pratica che illecita che era diciamo piuttosto abitudinaria nel passato che consiste sostanzialmente nella presentazione solitamente alle autorità doganali di diversi stati membri di più domande per la stessa merce da parte dello stesso richiedente in realtà allo stato attuale questa pratica è difficilmente operabile proprio perché le tv devono essere richieste accedendo al general trade portal e per accedere a questo portale l'operatore economico deve essere in possesso sia di un codice eori che delle credenziali per l'accesso ai servizi digitali tutte le fasi procedimentali di rilascio di tv quindi l'accettazione il dinego della domanda l'eventuale informazione di richieste aggiuntive tutte vengono gestite tramite il trader portal una volta presentata la domanda tramite questo portale l'operatore riceverà entro 7 giorni la conferma di ricezione della stessa domanda con l'identificativo del numero dell'itv e successivamente nei 30 giorni dalla conferma di ricezione verrà notificata l'accettazione formale dell'istanza che cosa deve essere contenuto all'interno di un'itv ciascuna richiesta di tv come dicevamo deve riferirsi ad un solo tipo di merce deve contenere una serie di elementi in primo luogo deve essere indicato ovviamente il nome l'indirizzo il recapito telefonico del soggetto richiedente laddove sia necessario anche quello dello spedizioniere devono essere date eventuali indicazioni laddove l'itv richiesta in realtà rappresenta un rinnovo di una precedente itv già rilasciata deve essere ovviamente indicata la nomenclatura richiesta e se si tratta o meno di un'operazione realmente prospettata deve essere data la classificazione che è stata individuata dal richiedente e altresì deve essere data una dettagliata descrizione della merce ancora l'itv deve contenere eventuali indicazioni di informazioni di carattere commerciale che possono anche essere di natura riservata e in questo caso deve essere data opportuna indicazione della confidenzialità delle informazioni e si può fare riferimento ad eventuali tv precedentemente richieste o ricevute da parte del medesimo richiedente o da altri soggetti che sono state reperite per merci identiche o similari un aspetto importante che rammentiamo nuovamente è che il richiedente ovviamente deve essere stabilito all'interno dell'Unione Europea oppure può essere utilizzato ad esempio un soggetto terzo come un rappresentante che possa effettuare la richiesta di tv il soggetto richiedente deve tendenzialmente presentare l'itv nello stato membro di stabilimento proprio per evitare quel tema quella pratica a cui facevo riferimento prima dello shopping dell'itv tanto è vero che laddove venga presentata un'istanza a uno stato membro diverso da quello di stabilimento lo stato che riceve la richiesta deve immediatamente mettersi in contatto con quello di stabilimento del richiedente per verificare che non sia stata presentata la medesima richiesta anche nello stato membro di stabilimento un aspetto molto importante che dobbiamo tutti ricordare è che deve essere data una dettagliata e accurata descrizione delle merci queste infatti devono consentire la corretta identificazione dell'articolo da classificare perché questo costituisce il nesso fondamentale tra la decisione tv che verrà rilasciata e la merce dichiarata devo dunque riportare tutte quelle informazioni che siano necessarie per la classificazione e quindi a tenermi non solo ad indicare la natura della merce ma se del caso e questo è utile anche spiegando quale sia la funzione o l'uso della merce la sua composizione eventualmente caratteristiche relative all'imballaggio e al confezionamento quindi qual è diciamo la metodologia migliore per la descrizione delle merci sostanzialmente noi dobbiamo cercare di rispondere ad alcune domande principali dobbiamo dire che cos'è la merce quindi dare una denominazione alla merce dire che quale aspetto ha la merce quindi se parliamo per esempio di una giacca a vento dobbiamo dire che si tratta di una giacca a vento contraddistinta da un'apertura ad esempio completa sul davanti munita di una cerniera dobbiamo poi dire a che cosa serve questa merce quindi la giacca a vento munita di cerniera a che cosa serve a coprire la parte alta del corpo dalle spalle fino alla vita e di che cosa è fatta la merce dovrò dire quindi anche qual è la composizione quindi la nostra giacca a vento con la lampo sul davanti che arriva fino alla vita partendo dalle spalle è realizzata per esempio non so da nylon e ancora andrò ad aggiungere quali siano le caratteristiche distintive così da consentire di beneficiare di quella corretta classificazione solamente la merce la mia merce la merce del richiedente che si è occupato di presentare distanza l'informazione tariffaria vincolante qual è la caratteristica delle tv come dicevamo le tv sono vincolanti non solo per le autorità che le emettono ma anche per il soggetto richiedente e costituiscono quindi una precisa manifestazione della pretesa tributaria ecco la corte di cassazione in una sentenza del 2019 ha chiarito che proprio per questo motivo devono considerarsi come degli atti impugnabili questo significa che laddove la risposta la mia istanza non sia congruente posso provare ad impugnare l'informazione tariffaria vincolante emessa da parte dell'amministrazione doganale e a discuterne quindi in giudizio per verificare se questa sia corretta o meno ancora che cosa può succedere una tv può cessare di validità questo può accadere per esempio anche prima del periodo di 3 anni per la quale è prevista la sua validità laddove a titolo esemplificativo siano emessi dei regolamenti di classificazione con i quali la commissione imponga l'applicazione di una specifica voce ed o canale ad una determinata merce in tutto il territorio nonale ovviamente se l'itv è in contrasto con questo regolamento questa cessa di efficacia la cessazione di efficacia non ha fortunatamente effetto retroattivo a differenza del caso in cui una itv venga annullata o revocata spesso può essere che una itv venga annullata laddove questa si basi su informazioni o inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti in questo caso a differenza della cessazione e la validità l'annullamento decorre dalla data in cui decorreva la decisione itv iniziale la patologia è che ovviamente in caso di annullamento a decisione itv l'importazione delle merci interessate dalla classificazione originaria rilasciata dall'itv poi annullata potrebbe essere oggetto di recupero ex post di eventuali dazi altre ipotesi di revoca dell'itv da parte dell'autorità docanali possono ricorrere laddove la classificazione rilasciata non sia più compatibile per esempio con l'interpretazione di una delle nomenclature oppure ci sia stata un'indicazione specifica in tal senso da parte della commissione o sia stato adottato un parere della commissione sulla classificazione diversa o ancora ci sia stato un confronto bilaterale con un altro stato che cosa c'è un trattamento di favore per il richiedente dell'itv laddove il titolare appunto in presenza di specifici presupposti e a determinate condizioni avanzi la richiesta di beneficiare di un uso esteso dell'itv il cosiddetto periodo di grazia giustificando questa sua necessità sulla base del fatto che proprio in ragione di questa itv siano stati sottoscritti dei contratti vincolanti che si basavano quindi sulla decisione che sono stati conclusi prima della sua revoca o della cessazione di validità ecco in questo caso può essere concesso determinate condizioni un periodo di grazia della stessa itv qual è la validità dell'itv abbiamo detto che questa è una valenza di tre anni le società comunque a partire in particolare il luogo ovviamente richiedente ma anche i terzi possono beneficiare di un itv si sente? mi sentite? penso di sì 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 si sento perfetto possono beneficiare di un itv anche come mezzo di prova al fine di invivare la corretta classificazione docanale della merce laddove ci sia una contestazione in una fase di accertamento ovvero in un contenzioso quindi può essere utile il rilascio del tv non solo diciamo in prospettiva futura ma anche per il passato laddove questa supporti la classificazione già attribuita da parte del richiedente o da terzi che possono dimostrare l'identità dei beni oggetto di verifica proprio per gestire il contraddittorio con l'autorità docanale mi permetto di rammentare un ultimo aspetto che mi sembra molto importante che avevo accennato proprio all'inizio del webinar di oggi le tv non hanno una specifica rilevanza ai fini dell'iva o meglio c'è un istituto che viene definito come accertamento tecnico che svolge la funzione di classificazione docanale per la specifica applicazione della liquota iva di riferimento quindi il processo da seguire laddove si debba verificare il corretto trattamento iva da attribuire ad una merce sulla base della classificazione non è quello di richiedere un etv che ha una valenza eminentemente docanale ma è quello di richiedere un accertamento tecnico che attribuisca il corretto codice di classificazione alla merce individuata al quale poi seguirà un interpello all'agenzia delle entrate che potrà invece verificare qual è la liquota iva se del caso ridotta che può essere applicata sul prodotto in questione massimo direi che abbiamo finito io ringrazio tutti riassumendo come vedete si tratta di un percorso tecnico sicuramente talvolta potrebbe non sembrare appassionante in realtà poi concede a chi voglia esplorare la classificazione dei prodotti che muove soprattutto se hanno caratteristiche molto diverse consente la possibilità di identificare soluzioni che magari prima non erano neanche immaginabili il caso che vi abbiamo fatto vedere del settore automotive piuttosto che quello delle borse di cui vi raccontavo o alcune delle casistiche di prodotti multifunzionali se affrontate in modo come dire di sintesi con un approccio di sintesi tra il tecnico di prodotto e chi governi la parte più legale legata alla caratterizzazione di classificazione consente davvero di mettere al sicuro la dichiarazione educanale ma soprattutto di non avere difficoltà come dicevo su quell'effetto domino che potrebbe crearsi per altri profili regolatori noi abbiamo risposto qui in live a molte delle domande che avete postato in chat come è avvenuto per tutti gli altri eventi le raccogliamo quelle che non abbiamo potuto affrontare adesso e daremo seguito per email a ciascuno di voi dandovi un riscontro sul tema che avete affrontato noi vi ringraziamo ancora una volta ringraziando l'audience che è sempre davvero molto vasta vediamo un appuntamento per prossime iniziative la prossima sarà nella survey che faremo mi daremo tutto su social e riceverete email le indicazioni su dove debba essere posta la funzione customs all'interno di un'azienda se all'interno del settore tax o se invece debba essere riferita alla logistica questa è un annosa diatribba che speriamo di aver risolto raccogliendo le impressioni di aziende diverse e vi daremo appunto i risultati di questo dunque vi salutiamo vi diamo appuntamento a prossimi eventi vi ringraziamo per l'attenzione e restiamo ovviamente a disposizione laddove vogliate anche in esito alla fine di questo evento mandarci delle domande arrivederci a tutti e grazie grazie a tutti arrivederci grazie a tutti